e questa pianificazione. Per quanto riguarda invece il parco del lago Trasimeno, come vi dicevo prima, la questione è ancora più articolata. Ovviamente questo parco è stato istituito dalla regione nel 1995, è uno dei sei parchi regionali, è il parco più esteso anche perché abbiamo tutto lo specchio lacustre. Una delle particolarità di questo parco è praticamente costituita dallo specchio lacustre e poco più. Dunque questo è un tema abbastanza delicato perché sappiamo tutti e probabilmente tutto il quadro conoscitivo che ieri è stato svolto, è chiaro che questa è una contraddizione da un punto di vista tecnico perché poi molto spesso le attività e le condizioni naturalistiche e ambientali del lago sono direttamente conseguenti alle attività umane antropizzate presenti nel bacino imbrifero. Anzi, non possono non essere tenute in considero debita a considerazione queste tematiche. Per cui la convergenza con il sistema agricolo, il sistema turistico con la presenza umana è sicuramente decisiva. Purtroppo il parco ha questo limite, per cui uno dei primi elementi, il parco nato nel 1995 non ha ancora il suo piano approvato. Potete ben capire che probabilmente diversi problemi ci sono a livello di pianificazione. Noi nel 2009 abbiamo preso in mano questa situazione e praticamente stiamo cercando di dare corso a questo percorso, utilizzando intanto anche una procedura che si chiama valutazione ambientale strategica, che probabilmente è nota a voi. Utilizziamo questa valutazione ambientale strategica sia per fare una valutazione delle peculiarità ambientali, ma anche per accelerare il processo di approvazione del piano. Siamo arrivati ad un certo punto, sostanzialmente abbiamo fatto tutta una prima fase di condivisione e siamo arrivati al punto della presentazione da parte di un gruppo tecnico, anche qui di natura scientifica, qui vedete anche la collaborazione dell'Università degli Studi di Perugia, per cercare di arrivare a una definizione di un piano nel parco che sia solida anche da un punto di vista tecnico-scientifico. Tra l'altro le collaborazioni della redazione dei piani del parco combaciano in molti casi con coloro che hanno partecipato alla redazione dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS. Ovviamente tutti questi elementi debbono essere strettamente connessi fra di loro, perché non avrebbero poi, devono essere strettamente anche connessi con i piani regolatori attualmente regolarmente adottati e con i vari livelli di pianificazione sopraordinata. Ovviamente il centro del piano e del parco è uno strumento di governo del territorio in grado di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità e delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali. Questo è il core della questione, sostanzialmente. Ovviamente in questa elaborazione deve essere fatta anche un'analisi degli aspetti socio-economici. è stata anche provocatoriamente fatta una proposizione, siccome su questo tema della perimetrazione sentivamo l'esigenza di andare a capire se era possibile allargare l'orizzonte di interesse del parco. Abbiamo anche definiti dei scenari e intorno a questi scenari definiti anche la possibilità di presenza di, perché la normativa ce lo permette, di aree contigue. Quest'area contigua, ai sensi della norma, dovrebbe essere utilizzata per, nel nostro intendimento, potrebbe essere utilizzata per incentivare buone pratiche rispettose dell'ambiente nel territorio ricadente in queste aree contigua. E noi, se non vi sono delle interazioni negative con altre attività socio-economiche molto importanti e che potrebbero essere di ostacolo all'approvazione del piano stesso, proponiamo questa soluzione di natura tecnica. In base a questi elementi sono stati fatti dei documenti tecnici e è stata fatta anche una zonizzazione. Secondo quanto è stato definito nei vari documenti tecnici elaborati nel corso degli anni dalla legge regionale e dal PS2, cioè dal piano Stralcio, che aveva individuato nelle sue norme tecniche di attuazione alcune questioni legate anche al bacino dell'Acustria e anche, per esempio, alcune questioni legate all'Isola Polvese, all'area dell'ex aeroporto. Qui vedete più o meno che cosa è stato fatto. Siamo nella fase finale di controllo di questa elaborazione e di concertazione con le amministrazioni coinvolte, che sono a vario titolo coinvolte, che sono la regione dell'Umbria per la questione della valutazione ambientale strategica, la provincia di Perugia perché sarà colui l'ente che dovrà poi approvare il percorso e approvare il piano del parco, per cui è strettamente connesso al suo iter di approvazione una sinergia con la provincia di Perugia e anche perché la provincia di Perugia ha una forte competenza in questo campo. E poi la verifica delle conseguenze che ci possono essere con gli aspetti venatori per quanto riguarda la presenza delle attività di incentivazione per le aree contigue. I compiti del parco qui sono qui elencati, dunque sono già stati individuati. Faccio presente che attualmente il parco del lago Trasimeno vive con 50.000 euro fino all'anno scorso e con 20.000 euro all'anno. Potete ben capire che stiamo parlando, stiamo facendo un'attività di pianificazione ma poi alla fine non abbiamo gli strumenti concreti per poterla eseguire. Per cui rischiamo di scrivere una documentazione che è poi fatta perfettamente ma la problematica delle risorse è comunque un problema molto cogente sia per l'aspetto della pianificazione delle aree SIC e ZPS perché lì sostanzialmente esiste nel piano di sviluppo rurale delle specifiche azioni fatte per incentivare le aree naturalistiche ma ancora non hanno visto il giorno e dunque per dare credibilità alla precedente pianificazione sarà necessario dare corso a questa attività di pianificazione a livello regionale perché poi in questo modo potremo incentivare buone pratiche e anche attività gestionali compatibili con gli indirizzi dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS. Per quanto riguarda il piano del parco bisogna che qualcuno finanzi queste attività in vario modo perché ci sono anche attività scientifiche, attività di vigilanza, attività che vanno in qualche maniera attivate. Per chiudere volevo anche far presente che la comunità montana svolge anche sullo specchio lacrosse varie competenze che sono secondo me anche attività gestionale di grossa importanza, una delle quali è la manutenzione della rete idraulica ma credo che poi ci sarà l'ingegner Vieterbo che penso ne parlerà in maniera più approfondita e risponde del lago Trasimeno. Sostanzialmente è attualmente colui che in gran parte svolge per esempio abbiamo fatto un grosso lavoro sui emissari del lago Trasimeno, su tutta la rete scolante del lago Trasimeno. Stiamo lavorando, avete visto dieci giorni fa l'inaugurazione della condotta del Monte Daoi, stiamo lavorando per l'ampliamento della rete rigua del lago Trasimeno. Facciamo interventi anche verso la fruibilità turistica, facciamo per esempio la realizzazione della pista sciclabile lungo il lago Trasimeno. Sono tutti elementi che comunque sia sono non strettamente legati a una gestione naturalistica ma comunque sono importanti per la gestione e facciamo attività di studio e anche attività di animazione economica. Facciamo anche progettazione europea, attualmente abbiamo quattro progetti europei nel campo delle tematiche legate al cambiamento climatico. Abbiamo due progetti Intelligent Energy e un progetto Life Ambiente che proprio analizza in che modo il comportamento delle aziende agricole si relazionano con le tematiche del cambiamento climatico e faremo audit energetici per cercare di andare verso la sostenibilità ambientale di alcune aziende agricole. 25 aziende agricole faranno questo lavoro per capire in che modo si relazionano con la produzione dei gas effetto SER. Grazie. Grazie. Ringrazio Ministro Montagnoli che oltre a questa attività fa anche tutta un'attività di promozione dei sistemi di gestione ambientale nei comuni del parco. Credo che abbia anche la Comunità Montagna che ha creato un logo, una certificazione EMA che sembra sostanzialmente simile a quella.